Oh, è venuto giù. Che succede? Hai trovato un pertugio all'interno della montagna? Una bella discesa. Qualcuno ha scavato una galleria nella montagna. O una macchina o un raggio laser da fuori l'atmosfera. La zenith uccisa dai ribelli cercava una cosa chiamata la risorsa. Non so cosa sia, ma è da qualche parte lì sotto. Va bene, allora scendiamo. Erend, tu resta qui e fai la guardia. Ci sono altri zenith come quella. Non voglio essere sorpresa se ne arrivano ancora. Avvisaci con il focus nel caso. Va bene, in caso di problemi vi chiamo. Andiamo. Via! Eccomi! Qui sotto ci sono rovine del mondo antico. Dicevi che gli zenith hanno una copia di Gaia, giusto? Sì, presa al laboratorio. Allora forse cercavano Irizia. Quando è stata scoperta ha inviato il segnale d'emergenza. Può darsi. Vediamo un po' qua cosa c'è. Vabbè, l'ho betta da poco. Niente, 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 niente. Ok, dovevo seguire la strada allora. Andiamo. Sembra una specie di centrodati. Sì, è un centrodati. Posso accedere ai sistemi della struttura da quella console? Direi proprio di sì. Sentiamo. No, accesso nei tasto stoccaggio, trasferimento a dati avviato, operazione sospese, reattore a fusione stand-by, download avviato, trasmissione avviata, destinazione censurata. Hanno censurato la destinazione. Non vogliono che si sappia la destinazione. Però a questo punto... Oh, che cos'è questo? Questo è un trasmettitore. Mai visto un trasmettitore del genere? Eh, dei zenith. Sembra che si sia autodistrutto. Scusami. Dei zenith. Se l'avessi visto prima, sarebbe un pochettino strano, no? Allora, andiamo alla console e vediamo un po' qua che succede, su. Beh? Era un laboratorio di Farzenith. Qualcuno ha trasmesso un sacco di dati di recente. Da quel dispositivo qui vicino. Ilizia è scomparsa? Probabile, se è mai stata qui. Ma allora perché gli zenith stavano ancora cercando la risorsa? Continuiamo a cercare. Evidentemente non hanno trovato tutto quello che gli serve. Allora, dai. Una deduzione semplice. Grandioso. Altre rovine di Farzenith. Almeno qui non sembrano esserci macchine assassine gigante. Eh, almeno quello. E altre cose da far esplodere. Ah. Oh, la va, la spacca. Proviamo. Potrebbe portare in stanze... Ecco, come questa che in realtà... No, ha un'altra uscita. Ok. Camere ectogeniche. Come quelle che ho visto al centro culla di Zero Dawn. A cosa servivano? Io non sono nata, ma sono stata creata. Ricordi? È stato così. Una macchina che fa le persone. Eh sì. Incredibile. Sì. Allora, vediamo un po'. Pappa pronta. È un'email questa. Da Daniel McGill... A Claire... Nguiene. Non so come si legga. Comunque, 18 gennaio 2065. Claire, ti avrei voluta con me durante la chiamata con Zero Dawn. Con Zero Dawn. Chiunque abbia negoziato l'accordo con loro è un genio. Un paio di vecchi arnesi lasciati ad ammuffire in un magazzino in cambio di una copia dell'intero scibile umano. Affarone. E il tizio che si occupa della sottofunzione lizia, Patrick Brochard e Claire, gli brillavano letteralmente gli occhi mentre ci bombardava di domande e richieste di chiarimento sul design della camera ectogenica. Sembrava di agitare una sardina di fronte a un gatto. Comunque, hanno richiesto materiale aggiuntivo sulla somministrazione dei nutrienti. È già arrivato l'ok dei piani alti, quindi manda pure tutto quello che abbiamo. Brochard Clayne se la farà sotto dalla felicità. Ok, allora direi di andare via da qui e di andare nelle altre stanze. Allora, di là non è accessibile, è chiusa. Fammi vedere, oppure la posso forzare. Non la posso forzare, è chiusa. Quindi a questo punto andrei nella stanza giù che dovrebbe portarmi in quell'enorme spazio aperto. Uh, a lui. Basta sbattere tutte le parti. Tutta questa roba, mi chiedo cosa combinassero qui. Beh, conoscendo Farzenit, forse scoprivano cose straordinarie da tenersi per sé. Ah, 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 questo non va bene. Egoista. Vabbè, andiamo a vedere, allora sì. Possiamo... Uh, mi si è scaricata la lampada. Un attimo, arrivo. Uh, po, 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 dove stiamo andando? Abbiamo detto, sì, dobbiamo tornare giù. Ok. Giù era di qua. Andiamo. Utile questo aggeggio. Bello, sì. Dove direi, da? Uh, sì, giù. Gli ho fatto bene a tornare un attimo su per vedere cosa c'era. Andiamo qua. Allora, ci sarebbe una porta qui e una risalita lì. Provo un attimo a vedere qua sopra cosa c'è. Questo posto è immenso. Ok. No. Un deposito di qualche tipo. Andiamo prima da giù. Forse la risorsa è qui da qualche parte. Sì, però aspetta, fammi vedere prima qua. Gli zenith non l'hanno trovata. Ok, questa è una stanza. Diamo un'occhiata in giro. Ok, quindi non faccio male a frugare in tutte le stanze. Non c'è questo che posso vedere. Trovate qualcosa di... No. Relazione sullo stato dei lavori. 19 agosto 2064. C'è una parte dei dati danneggiati. Ha fatto enormi passi in avanti, con una riduzione degli intervalli tra i ritocchi richiesti dai trattamenti commerciali come le Giovegin di Osmond Duce. Ma che roba è? Comunque, per quanto riguarda il team di Malik, i risultati dei loro esperimenti di neurofisiologia sembrano promettenti. Insieme ai dati aggiuntivi forniti dalla struttura di Tokyo, siamo sempre più vicini alla creazione di una prima generazione di impianti funzionanti. Nel mentre, i nostri amici a Zurigo hanno inviato le ultime scoperte su WBA. E-B-C-D-I-I. Vabbè, W-B-E. Facciamo così. Risultati contrastanti. Non è tutto da buttare, ma siamo ancora a decenni di distanza dalla vera trascendenza digitale. Se non, è dati danneggiati. È utile su quella risorsa? Non proprio. Ok. Ora mi ha dato l'obiettivo. L'obiettivo da seguire, che è qui. Allora sì, quella è la parte finale. Dobbiamo entrare lì dentro. Ah, Varl! Vieni, non mi sta dietro. Oh, allora. Là ci vuole una batteria. Vedi? E-Erend, come sta prendendo tutto questo? Mi preoccupa. Beh, Gaia, gli Zenit, il Focus. È molto. Ma quando l'ho contattato nel timore per dirgli che ti serviva il nostro aiuto, ha mollato tutto ed è tornato. Ok, bene. È fedele. Questo sì. Ops, c'è qualcosa qua? Ah, non gancio. Ok, scendiamo. Vieni, vieni, Erend. Non c'è niente qua. Quei numeri? Perché siedono tutti quei numeri? Vabbè. Una console per accedere alle unità di stoccaggio. Ci può dire se la risorsa è una di esse? Eh, ora vediamo. Scopriamolo. Vediamo un po'. Perchè si è aperta questa porta se non c'è niente dentro? Strano. Vabbè. Ma è per perdere tempo? Oh. Da sbattere contro ogni porta, però. 236 unità di stoccaggio disponibili. Inserire il numero dell'unità richiesta. 236. Ah, due... Non c'era un numero nel segnale d'emergenza? Sì. Giusto. Controlliamo i registri. Due. Tre. Sette. Ah, due, tre, sette. Era lui. Era lui. Ma esce che esce un'altra clone di Aloy. Ullalala. È una persona, l'ho detto. Vedi? No. Non mi sembra, là. Un'altra Elisabeth... Elisabeth Sobeck. Sì, no. Bugia. È un'altra Elisabeth Sobeck. Un'altra Aloy. Aloy. Sei tu? Sei tu? Sì e no. La pelle sembra ghiaccio. Dorme da mille anni, mi sembra. L'hai estratto dalla testa? Ma perché? Cosa è? Un focus... Salve, Elisabeth. Non so come altro chiamarti. Io sono Beta. Non ho molto tempo, Temo. Tra pochi minuti la mia guardiana scoprirà la mia assenza. Non ho ancora tolto questo impianto. Speravo di riuscire a raggiungerti, ma... Se stai guardando... Sarò morta. Fa' attenzione. Quando affronti Fargenit, sono spietati. E possono contare su Elisabeth, Artemide e Apollo. Ah. Ma non hanno il kernel di Gaia per usarli. Hanno pure Apollo. Chi è questo? Elisabeth? Tu non devi fallire. O sarà scato inutile. Addio. E auguri. Quindi è... Ma è ancora viva? Dobbiamo riportarla... Oh no, sanno anche volare. Aloy. Aloy, riesci a sentirmi? Che succede, Erend? Due di quegli Spectre sono appena apparsi. Uno dei due viene verso di voi. L'altro sta aspettando. Maia, questo non va bene. Torniamo. Intanto tu resta al riparo. Senz'altro. Non va per nulla bene. Mettila al sicuro là dentro. Qualsiasi cosa accada, lei sta con noi. Ci penso io. Mi devo preparare per lo Spectre. Non deve raggiungere Varla il clone. Ah. Preparati a combattere. Ma contro quello. E come combatto? Mi sono indistruttibili. Sta arrivando! Oh, cane. Oh, sei una brutta bestia. Urkukan. Uuu. Skanta, skanta. Skanca. Potrai stansionare quella cosa. In cerca di punti di uomo. È molto veloce. Ok. È congelata. Oh. Dissuto. Oh, quasi. Fatto. Stai bene, Aloy? Sì. Sì. Torno in superficie. Tu resta lì col clone per ora. Super Android. Gli ho fatto prendere pure le crisi. Oddio. E poi dicono che i bug ci sono solo su PC. Ah. Beccatevi sto bug grafico. Per tutti quelli che dicono sulle console non ci sono. Guarda. 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 Mostra su PC. Eh. Su PC ci sono un sacco di bug grafici. Guarda. Guarda. Sta ballando la tarantella. Guarda. Guarda. Ah. E c'è ancora il bug. Anche dopo la pausa. Visto? Ah. Guarda la porta. Guarda. Vabbè. Torniamoci all'esterno. Vai. Potrebbero fare però le porte con l'apertura automatica. Devo tornare su e occuparmi dell'altro Spectre. Ah. Speriamo che Erende stia nascosto. Eh. Non penso che sia abbastanza stupido ad affrontare quelle macchine. Da solo. O almeno spero. Ci sono. Erende. Sono qui. Attenta. Quel coso continua a sparare. Credo che voglia combattere. Resisti. Vedo cosa posso fare. Allora. C'era l'arma. Quella potente. Ok. Eccola là. Lo Spectre non si schioda da lì. Potrei avvicinarmi inosservato. Restando fuori dalla sua linea di tiro. Tutto andato. Si muove. Non è una presente. Potrei usarla contro lo Spectre. Oh. Ritto dove fa più male. Oh questo mi viena giù. Se la sei presa con quello tempo. Ecco di qua. Ciappa. Oh. Un'arma. Vuoi vedere che posso prendere quell'arma? Dimmi che posso prendere quell'arma. Dimmi. 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 E' a lui. Beh dai in realtà. Non sono ubriaco lo giuro. Ma penso di vedere doppio. Beh non ti crederei. È lunga storia. Ma dovrà aspettare. Torniamo alla base. Deve visitarla un guaritore immediatamente. Giusto. Forza. Che cosa stiamo aspettando? Voi due andate pure. Voglio dare un'occhiata a quell'arma. Voi due andate pure. Voi due andate pure. Voiso Sicko.